Hai restaurato due quadri Caravaggio, il ritratto di Paolo V e poi una delle tre copie della cattura di Cristo nell'orto del Gezzemani. Noi restauratori abbiamo la fortuna in un certo senso di mettere le mani addosso all'opera e poi quando questo lavoro si fa da soli per esempio, io entrambi questi due quadri di Caravaggio l'ho fatti da sola, non avevo collaboratori, non avevo colleghi nessuno, per cui diventa una specie di corpo a corpo perché tu indaghi questa pittura e la pittura ti risponde. Devo dire che è un'emozione straordinaria, per esempio per fare la cattura di Cristo io ho impiegato quasi un anno, per cui ho lavorato per quasi un anno, dieci mesi circa, sola con questo dipinto. Più di quanto Caravaggio ci ha messo a dipingere. Sicuramente, ho dovuto pulire questo quadro, tra l'altro facendo una campagna fotografica molto precisa perché ho dovuto testimoniare tutto quello che trovavo, tutto quello che facevo, per cui mi sono trovata di fronte proprio all'anima di questo dipinto. Grazie a tutti.